Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 18 di luglio 2019 Dio vi benedica, sa sempre sia fatta la sua santa e divina volontà e lode e gloria a Cristo nostro Signore, Ave Maria Bene fratelli e sorelle, il titolo di oggi sia della copertina ovviamente della miniatura e della locandina vedete qui ben presente Viviamo in un'epoca peggio di quella del diluvio, fratelli e sorelle, viviamo in un'epoca veramente peggio del diluvio Non è che lo dice il sottoscritto che vi parla, se voi andate a prendere il Santo Vangelo, Gesù già lo dice, che fa capire che negli ultimi tempi ci sarà una situazione talmente pesante ed è brutta Che sarà peggio di quella del diluvio universale, cioè prima del diluvio universale c'è stata una situazione veramente assurda Gesù già lo diceva 2019 anni fa, diceva che ci sarà prima del suo ritorno ovviamente una situazione peggiore rispetto a quella del diluvio universale Quindi la premessa di quel diluvio universale è x, noi abbiamo una premessa di questo, prima del suo ritorno, un x più al quadro Diciamo che un x al quadro significa praticamente che è peggio rispetto a quella che stiamo vivendo, che è peggio che quella di cui si è vissuta nell'epoca del diluvio Cioè se all'epoca del diluvio, prima del diluvio l'epoca era x, diciamo che il peccato era x, mettiamo adesso è che prima del ritorno di nostro Signore Gesù Cristo L'epoca è con un peccato x al quadro, praticamente quindi è doppiato, diciamo si è doppiato, potremmo mettere anche x al cubo, diciamo possiamo dire anche in questa maniera E quindi è una situazione veramente pesante, fratelli e sorelle, ma andiamo a leggere i messaggi di oggi, che sono due Cioè che sono due, che uno è questo che andiamo a leggere adesso di San Bonico del 13 giugno 2019 E l'altro ci sono vari piccoli messaggi della Vergine Maria Dolorata di L.S. Correal Però iniziamo con San Bonico, 13 giugno 2019 E qui è un messaggio in cui dice una cosa, mi hanno scritto vari commenti, come avete visto su San Bonico, che siano tutte fasulle queste apparizioni Che è un'apparizione fasulla Io vi ho detto delle apparizioni, ve lo dico tutte, sono presunte quelle che mettiamo qui cari fratelli e sorelle, non sono riconosciute Sono tutte presunte, tranne qualche, che mettiamo ovviamente qualche messaggio che è stato riconosciuto in passato Tipo la Salette, Fatima, tipo la Madonna del Buon Successo, eccetera, eccetera, ovviamente Ma ripeto, sono tutte presunte, però guardate qui che cosa dice la Vergine Maria Mi rivolgo a te figlio mio e ti dico che giovedì sera ti parlerò in privato figliolo Ti svelerò delle cose che solo tu devi sapere e poi queste cose si avvereranno tutte E tu le andrai a dire al Vescovo, al Vescovo tuo, cioè gli dice la Vergine Maria Io mi rivolgo a te figlio mio e ti dico che giovedì sera ti parlerò in privato figliolo Ti svelerò delle cose, quindi saranno dei segreti immagino fratelli e sorelle Che solo tu devi sapere e poi queste cose che si avvereranno tutte E tu le andrai a dire al Vescovo, al Vescovo tuo Figlioli, ricordatevi sempre di non perdere mai la fede e di tornare umili Il Signore vuole questo, l'umiltà per tutti e l'amore verso tutti figlioli Tanto amore ci deve essere nella vita tantissimo Quindi, cosa avrà detto questo? Solo Dio lo saprà, solo Dio lo sa, ovviamente Però vedete, è andare dal Vescovo, fratelli e sorelle Non è andare da un pinco pallino, è andare dal Vescovo Certo, queste cose le devi sapere tu e poi le andrai a dire al Vescovo Quindi alla Chiesa, fratelli e sorelle Io non dico nient'altro, fratelli e sorelle Quindi staremo a vedere quello che accadrà, fratelli e sorelle Andiamo alle apparizioni invece di quelle della Vergine Maria Adrorata di Alias Corial E si riguarda qui sugli avvertimenti sul castigo Cosa dicono questi brevi messaggini? E dice questo 5 maggio 1984 La Vergine Maria dice Ha già suonato la seconda tromba State in allerta figli miei perché il nemico vuole impadunirsi dalle vostre anime Ma con sacrificio e preghiera il nemico non la potrà fare alle vostre anime State in allerta perché quando la luna inizierà a diventare rossa e gli astri inizieranno a perdere la loro rocentezza Il tempo si approssima Figli miei Osservate che questo sta succedendo Ho detto figlia mia che i messaggi stavano per terminare Ma il mio cuore è pieno di dolore Devo avvisare come una madre ai suoi figli del pericolo che le incalza Con la preghiera e con il santo rosario potreste aver evitato questi grandi castighi figli miei Ma il mondo non è cambiato figlia mia Il mondo continua ad essere ogni giorno peggiore 20 maggio 1984 La Vergine Maria dice Vi avviso figli miei come una madre avverte il proprio figlio quando occorre un grande pericolo Figli miei E che cadrà sull'umanità per via di uomini colti Il cui il demonio ha infestato le loro menti per realizzare artefatti atomici Figlia mia per distruggere il mondo Ma non si può distruggere tutto il mondo fino alla fine del mondo figlia mia Sarà orribile figlia mia La terra tremerà di spavento Ma con sacrificio e con preghiera figli miei potrete evitare una grande guerra Ma il castigo è molto prossimo Varie nazioni resteranno in rovina figlia mia Già ti ho detto che gli uomini hanno costruito in un secondo Sarà distrutto Non voglio mettervi paura figli miei Mi avverto solo che non voglio che vi condannate Povere anime figlia mia Povere anime A cui da cento anni sto dando avvisi Ma non fanno caso ai miei avvertimenti Ho già ripetuto in altre occasioni Sarebbe meglio non essere nati Quindi fa capire ecco Diciamo che questa è per ora Ecco questi sono i primi messaggi che abbiamo letto Adesso leggiamo il resto Sono ancora più brevi rispetto a quello che abbiamo letto adesso 27 maggio 1984 Il Signore Gesù dice Dicevi che non succeda come ai tempi di Noè Gli uomini mangiavano Bevevano Fornicavano Fino a quando Noè si mise nell'arca E perirono tutti 2 dicembre 1989 La Vergine Staccatevi figli miei delle cose materiali Il vostro pensiero ogni giorno ce l'avete più attaccato al mondo Pregate figli miei per non cadere in tentazione Volgete il vostro sguardo a Dio Il vostro creatore Solo lui potrà fermare la giusta ira che ha preparato Quando arriverà il giorno del Giuditto Il giorno del Creatore Sarà terribile figli miei Quando gli angeli pensano a questo giorno Cominciano a tremare 5 ottobre 1996 Il Signore Gesù dice Sacerdoti del popolo Predicate il Vangelo E vivete come sacerdoti nel vostro ministero Conquistando le anime per il Regno di Cristo I tempi si approssimano E voi non ci fate caso figli miei Vi succederà come ai tempi del diluvio Quando non ci fecero caso E vennero così sorpresi Dalla giustizia che Dio applicò su di loro C'è poco d'altro da commentare Fratelli e sorelle Eppure questo è quello che stiamo vivendo Anche oggigiorno Fratelli e sorelle Quindi bisogna solo che pregare per la Santa Chiesa Preghiamo per Papa Francesco Papa Benedetto Per la Santa Chiesa I vescovi, i cardinali, i sacerdoti Noi Tutti noi che stiamo Chi è lontano, chi è vicino Chi non gli interessa Pregare per tutti Per le famiglie E che il Signore ci perdoni davvero E che abbia misericordia veramente di noi E di tutto il mondo intero Fratelli e sorelle Bene Sia fatta la sua Santa Divina Volontà Sia lode e gloria al nostro Signore Gesù Cristo Sia lottato sempre Nostro Signore Gesù Cristo Ave Maria Se volete e se potete Iscrivetevi al nostro canale con la campanella Anche nei nostri canali Ovviamente Se volete e se potete Seguiteci E diffondete la parola di Dio E questi messaggi E se Dio vuole Vi daremo la programmazione Della giornata odierna Bene fratelli e sorelle Dio vi benedica Santa giornata a tutti voi Sia lottato Gesù Cristo Ave Maria